Chiudere le scuole in Campania è stato un favore ai clan, così il sindaco di Napoli in commissione antimafia dove ieri è stato ascoltato per circa due ore. Cioè che la rabbia sociale non viene intercettata in maniera democratica e non viene intercettata con le dovute forme che bisogna mettere in campo da chi sta sul territorio agli altri figure istituzionali il rischio che qualcuno si possa impadronire del disagio e dell'esasperazione per farla diventare questione di ordine pubblico e peggio ancora poi questione criminale. Io credo che sia necessario avere più consapevolezza che in questo momento c'è bisogno proprio di liquidità e di interventi sul lavoro. Ma il viaggio romano di Dema è servito anche a tastare il terreno per cercare alleati in vista del voto sul bilancio al Comune. Voto decisivo che gli serve per rimanere a galla fino alla primavera prossima e scongiurare il commissariamento partendo dal dialogo già ben avviato con Forza Italia. Ma tra gli azzurri c'è chi come il deputato irpino Cosimo Sibilia non è assolutamente d'accordo a salvare il sindaco arancione. Basta giochetti sulla pelle dei napoletani ha detto Sibilia che auspica un intervento definitivo di Berlusconi sul caso Campania. Porte chiusi a Dema anche nel Partito Democratico mentre si vociferano tre nomi di peso in quota De Luca per le prossime amministrative. Il salernitano Nicola Audati tra i più vicini al Zingaretti nella segreteria del PD ma anche il fedelissimo presidente dell'EAv Umberto De Gregorio e infine Gennaro Migliore di Italia Viva che condivide con De Luca l'allergia per i pentastellati. Sullo sfondo il grande ritorno di Antonio Bassolino dato ormai per certo padre fondatore del PD non ha mai avuto un grande rapporto con De Luca. Potrebbe sparigliare le carte in tavola anche se il suo mantra in questi giorni è sempre lo stesso. Collaborare, ricucire gli strappi. Napoli ha fame, dice Bassolino, è malata e lo scontro istituzionale non serve a nessuno.